Stefano De Martino a Verissimo Stefano De Martino a Verissimo, sono single. L'isola dei famosi è una sfida. E su Belen rivela i. Stefano De Martino, ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5, parla della prossima esperienza all'isola dei famosi come inviato, dello status sentimentale e dell'ex moglie Belen Rodriguez. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Stefano De Martino, l'isola dei famosi è una sfida, non è facile lasciare amici. Stefano da lunedì 22 gennaio sarà in Honduras come inviato dell'isola dei famosi 13, condotta da Alessia Marcuzzi, non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti, afferma. Il ballerino aggiunge, per me fare l'isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Stefano De Martino fidanzato con Gilda Ambrosio? La verità. Stefano è impegnato o no in questo momento? È lui stesso a smentire i rumors che lo vorrebbero fidanzato con la blogger Gilda Ambrosio, sono single. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione. Già Valerio Palmieri di chi aveva dichiarato a Mattino 5, Stefano frequenta in amicizia a Gilda Ambrosio e che è stata con lui in vacanza e però con un gruppo di amici, in compagnia e diciamo, è una bella amicizia che potrebbe avere degli sviluppi, al momento rimane amicizia. Stefano De Martino, Belen? Non torneremo mai insieme ma ci saremo sempre uno per l'altra. Il napoletano riserva parole d'affetto per l'ex moglie Belen Rodriguez dicendo, non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago, loro figlio, NDR, ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l'uno per l'altra.